Noi oggi presentiamo, analizziamo l'ordinanza di esame del 9 aprile e abbiamo notato degli errori gravi da parte del riesame. Innanzitutto si afferma che nel 2016 le fonderie Pisano avevano ad agosto del 2016 i controlli dell'ARPAC, avevano superato tutte le criticità. Fin qui possiamo anche concordare, dopodiché però si dice che questo superamento viene confermato nei controlli successivi dell'ARPAC. Qui c'è un errore molto grave perché in realtà gli unici dati dell'ARPAC del 2017, dal maggio 2017 al novembre 2017 dimostrano invece che tutte le criticità delle fonderie Pisano sono in essere. Le fonderie Pisano rispettavano fino a quella data 10 bat dell'AIA, quindi violavano la legge per 10 criticità, creavano emissioni diffuse gravi, creavano e superavano i limiti soglia dei rumori, delle emissioni rumorose e soprattutto per la prima volta viene constatato che creavano un rischio di ossina. Tanto è vero che la Procura in quell'anno e in quei mesi a giugno sequestrò qualche centinaia di tonnellate di metalli pesanti che erano intrisi di olio e di plastica che fuse avrebbero creato di ossina. Pertanto si smentisce quello che forse come errore, come refuso dice il riesame e che valuta come cosa importante per dire che non vi era più il periculum per tenere chiusa la fabbrica. Secondo errore del riesame, per quanto riguarda lo studio spesso, si parla dello studio sulla popolazione. Si fa passare quello studio come uno studio soggettivo, uno studio che viene fatto, consegnato e quasi fatto dal Comitato Salute e Vita, non è vero. Quello è uno studio oggettivo, è l'unico studio oggettivo fatto fino ad ora perché è fatto da un ente pubblico, la Regione Campania, che ha commissionato degli enti pubblici come l'istituto zeoprofilattico del menzogiorno, sperimentale del menzogiorno, l'ASL di Salerno, il Pascale di Napoli e tutto verrà validato dall'Istituto Nazionale di Sanità. Mentre si dà valore allo studio della Federico II, una relazione che è basata su una richiesta di un privato, le fonderie Pisano che probabilmente avranno pagato una consulenza di parte alla università e che viene fatta probabilmente su dati consegnati dal medico della fabbrica, quindi dati di parte. Quindi l'errore del riesame è di calcolare quello della fonderia Pisano, uno studio oggettivo che tranquillizza, e quello nostro come quello che abbiamo presentato noi ma che è stato fatto come oggettivo, come studio soggettivo. Questo è un errore grave. Ultima cosa, un'altra cosa che ci avvilisce, che ci ha mortificato nell'anima come cittadini, che al danno ci ha dato la beffa è aver messo in discussione una denuncia querela per la presenza di polveri e di miasmi intollerabili durante il mese di agosto del 2016, di aver messo in discussione le testimonianze dei cittadini che hanno chiamato la polizia e si omette di dire, di prendere in considerazione in questo riesame, la nota che lo stesso riesame cita dove, la nota dei vigili urbani che certifica e accerta le polveri e i gas. Quindi questa cosa ci ha offeso profondamente, ci ha demoralizzato e annunciamo oggi che consegneremo altre 750 firme che vanno dal 4 aprile al 19 aprile 2018 dove si certifica in denuncia querela, ci assumiamo la responsabilità di certificare i miasmi intollerabili e le polveri che sono metalliche, come visto con le calamite che utilizziamo, che si attaccano alle calamite, sono polveri metalliche provenienti dalle fonderie più bisaglio! Grazie.